Ci sono tanti perseguitati per la fede e oggi mi permetto di salutare in modo speciale a un martire vivente, Monsignor Simoni, Cardenal Simoni. La prete, il vescovo, ha vissuto 28 anni in carcere, il carcere comunista dell'Albania, che era la persecuzione forse più crudella, e continua a dare testimonianza. E come lui tanti, 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 adesso ha 95 anni e continua a lavorare per la Chiesa, senza scoraggiarsi. Caro fratello, ti ringrazio la testimonianza. Grazie. Viva Papa! Viva Papa!